Il commercio equo e solidale, che è quello che noi facciamo come attività principale, su questo termine ci ha giocato molto. Insomma, la scommessa, il ragionamento di fondo che ispira poi tutti i criteri del commercio equo è quello di rimettere le persone, la dignità delle persone al centro dell'agire economico e quindi spostare il profitto in una posizione, diciamo, perlomeno di secondo piano. Cioè, vedere l'economia come uno strumento per la costruzione di una vita degna e soddisfacente per tutti gli esseri umani e non come il fine... A nostro avviso il sistema economico dominante è assolutamente rovesciato. Cioè, sono gli esseri umani che sono al servizio del profitto e quindi del funzionamento dell'economia e non l'economia al servizio del benessere delle persone. Se un soggetto economico ha come proprio obiettivo principale quello del profitto, è portato a stare sul mercato, diciamo, tra virgolette, comunque sul campo, con un approccio di un certo tipo. Se invece l'obiettivo principale è un altro, fa lo stesso lavoro, quello di cercare di fare impresa, ma lo fa in maniera diversa, per spiegarmi meglio. Noi, come tutte le realtà economiche che se ne dica, occupiamo un pezzo di un processo, di una catena, che in economia si chiama filiera. Chiunque sta in un punto della catena, se il suo obiettivo principale è il profitto, tende, nel nostro caso, che facciamo sostanzialmente commercio, quindi noi gestiamo punti di vendita al dettaglio, principalmente, non solo, ma principalmente quello, quindi i negozi, quindi acquistiamo dei prodotti da dei fornitori e li rivendiamo ai consumatori. L'obiettivo, se il punto centrale è il profitto, l'obiettivo è cercare di acquistare al prezzo più basso possibile del fornitore e venderlo al prezzo più alto possibile al cliente finale, a prescindere da tutte le conseguenze, tutto quello che ci può essere intorno e che ciò comporta. Ecco, noi cerchiamo di metterci in quel punto della filiera con un altro approccio, non più io sono il soggetto che deve massimizzare il profitto, gli altri sono controparti dai quali io devo cercare di trarre vantaggio, sia acquistando a un prezzo più basso o vendendo a un prezzo più alto, ma sono partner, facciamo parte di un percorso, facciamo parte di un sistema che deve portare benessere a tutti e quindi la relazione che abbiamo con il fornitore da una parte e con il cliente dall'altro, almeno questo poi è il tentativo, non è detto che ci si riesca sempre, è quello di costruire delle relazioni paritarie, eque, appunto, e solidali, quindi cercare di capire quali sono le esigenze di tutti gli attori coinvolti nel processo economico e costruire in sé una relazione che permetta a noi di avere, anche se di poco, i ricavi superiori ai costi e quindi di stare in piedi e essere economicamente sostenibili, ma che sia sostenibile anche per il nostro fornitore questo percorso, perché se poi non lo fosse a lunga, perché noi l'abbiamo strozzato con prezzi troppo bassi, cosa che è all'ordine del giorno nell'economia di oggi e soprattutto nell'economia alimentare, che riguarda gli alimentari, il cibo, la produzione di cibo, dove vediamo che molti produttori, noi abbiamo cominciato con i produttori del sud del mondo, che erano i cosiddetti produttori svantaggiati, ma ormai basta parlare dei casi di Rosarno, Incalabria, eccetera, cioè sono strozzati anche in Italia produttori italiani. Insomma, se quel fornitore lì non gli garantisco la sostenibilità del suo lavoro, ne vengo danneggiato anch'io, viene danneggiata la comunità, e così allo stesso tempo al consumatore vogliamo offrire dei prodotti buoni, buoni dal punto di vista della qualità intrinseca del prodotto e della qualità sociale e ambientale del prodotto, al prezzo giusto. Quindi un prezzo che il consumatore riconosca come un prezzo adeguato rispetto al valore del prodotto che ti sto vendendo, valore, ripeto, in senso generale, non solo monetario, e allo stesso tempo cerchiamo di condire tutto questo con un lavoro molto approfondito di attività infoeducative, le chiamiamo noi, che forse è un termine un po' riduttivo, vuol dire cercare di parlare con la comunità nella quale operiamo, quindi la nostra attività non è solo quella economica, non si esaurisce nel vedere un bilancio inattivo, ma è una sfida un po' più grossa che quella di cercare di essere parte di un discorso che porti la nostra comunità a collaborare tutto perché appunto si rovesci quella situazione che dicevo all'inizio, quella stortura del sistema economico e finanziario nel quale ci troviamo che dal nostro punto di vista mette i valori che dovrebbero stare in cima, in fondo e viceversa. Grazie a tutti!